Bene, appuntamento quotidiano. Allora, un bel sorriso per iniziare questo nuovo video. Esserci, essere sul pezzo, lasciare che le parole si susseguano, senza controllo, senza volontà. Lasciare che tutto avvenga, ma con una grande consapevolezza, sapendo l'inganno che gestisce questo mondo, sapendo che non è vero che hai scelto tutto, che hai fatto un contratto prima di arrivare qua in un modo volontario e consapevole, ma che in un modo o nell'altro, quello che stai vivendo, l'hai comunque accettato. Sarà che non sei stato capace di evitare l'inganno? Sarà che è qualcosa che da una parte però volevi sperimentare? Eppure, alla fin dei conti, se sei qua e stai vivendo la vita che stai vivendo, ebbene, da qualche parte l'hai accettato. Non te ne ricordi, non lo sai, non sai come. E non sei stato furbo, forse. Non sei stato abbastanza bravo. Allora sei qui per diventare più furbo e diventare più bravo. Poi ognuno può sostituire gli aggettivi che vuole. Però sicuramente la furbizia e la bravura sono delle parole molto utili. Il giorno d'oggi bisogna farsi furbi, ma questa furbizia deve essere fatta senza creare torto al tuo prossimo e a chi ti sta vicino. Teorie siano essi animali che vegetali o umani, o pseudo-umani, visto che l'abbiamo già detto. Di umano su questo pianeta, l'umano come intendiamo noi, che ha umanità. Ne vedo ben poco. Stiamo veramente toccando il fondo, il fondo dell'umanità. Chissà che raccogliendo un po' gli scarti dell'umanità, riusciamo a creare un umano su tutta la terra. Dai, un po' di ironia, un po' di sano realismo. Siamo sempre a voler dire che è tutto bello, tutto è uno, siamo tutti una sola cosa. Quante minchiate. Tu vivi la vita in un certo modo, io in un modo. Quelli giù là, in Palestina, la vivono in un altro modo. E giù in Africa, in alcuni paesi, ancora in un altro modo. Dunque, continuiamo a seguire la nostra strada, con la testa alta, col petto in fuori, con l'onore sempre lì, quell'onore che dobbiamo a questa maglia, questa maglia che è il tuo cuore. E battiamoci per quel cuore, battiamoci per la vita. E' il cuore che dà la vita, allora che vita sia, che sia una vita fatta secondo buoni principi, buoni propositi. Per ogni giorno essere la migliore versione di se stessi, nella direzione dell'infinito, tutto un giorno sarà lì, insieme. Allora, Haug, a te è una bellissima giornata. Continua, metti un piede davanti all'altro, alzati ogni mattina, trova nuovi stimoli, nuovi obiettivi, nuovi sogni, realizzali, falli conoscere a chi ti sta vicino, ma soprattutto incarna quei principi. Perché senza un'azione consapevole e coerente in funzione dei tuoi principi, i tuoi principi non hanno più nessun valore. Ok? Grazie, se metti mi piace al video, iscriviti al canale, e di la tua, lascia un commento, siccome ne vedo pochi di commenti, ci sarà un perché. Va bene così, non ho bisogno di commenti. Allora, con la vita ci si trova bene. Un abbraccio e una buona giornata, ancora.